Lavoro, allenamento e sacrificio sono da sempre gli ingredienti per ottenere ottimi risultati, ma anche una bella benedizione sicuramente non guasta. Si alzerà il 15 settembre, rinvi permettendo, il sipario sul campionato dell'Alma Juventus-Fano, che per il terzo anno consecutivo scenderà in campo tra i professionisti. Questa mattina lo staff tecnico e i giocatori si sono riuniti nei locali dell'Istituto Maestre P. e Venerini, dove dopo la foto ufficiale hanno ricevuto la benedizione di Monsignor Armando Trasarti, rituale che si ripete ormai da diverso tempo e che ha fatto il paio con la presentazione della divisa ufficiale. Anch'essa, Benedetta, è consegnata al Vescovo direttamente dalle mani del capitano Andrea Lazzari. L'attività sportiva, ha detto il Vescovo, deve per prima cosa formare il giovane sotto l'aspetto della personalità e dell'equilibrio relazionale, inculcando in lui il concetto di squadra. Sono queste tre parole che messe insieme fanno la società e decretano i successi. E al successo punta ovviamente l'Alma, che come confermato dal presidente Claudio Gabellini alla vigilia del suo ottavo campionato in veste di patron, proverà ad ottenere una salvezza meno tribolata rispetto alle ultime due stagioni, forte anche della partnership stretta con il Delfino Pescara, che ha fatto approdare in granata diversi giocatori con anni di Serie B e C alle spalle e che saranno sicuramente utili alla causa. Così come utile alla causa è la collaborazione con l'Istituto diretto da Roberto Andreucci, che ospita una decina di ragazzi della prima squadra e che metterà a disposizione la propria struttura per far studiare i giovani tesserati dell'Accademia Granata nei giorni in cui sono previste sessioni d'allenamento. E proprio ai più giovani si è infine rivolto il Vescovo, che ricordando la sua passione calcistica per il Milan e la Fermana, sua terra d'origine, ha ricordato ai ragazzi l'importanza di fare una vita sana e sobria senza rincorrere a tutti i costi la bella vita. Un'esortazione che a breve il campo ci dirà se i giocatori hanno recepito a dovere. Di sicuro, per far sì che quella 2018-2019 non sia l'ennesima stagione di Patemi, servirà anche una buona dose di fortuna e allora benvengano lavoro, allenamento e sacrificio, ma anche una bella benedizione sicuramente non guasta.